Il sacro cingolo, simbolo della sua nuova diocesi, manca un cavallo nero rampante, simbolo di Arezzo, la città natale. Monsignor Agostinelli, in occasione della sua elezione a Vescovo di Prato, cambia stemma, mantenendo però il motto in verbo tuo, tratto dal Vangelo di Luca, sulla tua parola getterò la rete. Il ruolo del Vescovo, infatti, spiega Agostinelli, in quanto successore degli apostoli, è di perpetuare l'affidamento alla parola del Signore, fondamento del cammino verso la salvezza da parte del popolo di Dio affidato alla cura pastorale del Vescovo. A sinistra, come detto, il sacro cingolo, illustre reliquia, cara ai fedeli priatesi, spiega Agostinelli. Poggia su di una campitura di rosso, il colore della carità. La tradizione vuole che Maria, nel momento di essere assunta in cielo, lasciò la cintola della sua vesta Sant'Ommaso come gesto di benevolenza. La reliquia, attraverso un percorso secolare, arrivò poi a Prato. Nella parte argento, il cavallo rampante di Arezzo, riferimento allo stesso Vescovo Agostinelli e alla sua città natale. Ma non solo. In araldica, il cavallo nero simboleggia la sollecitudine ed ecco quindi che richiama la sollecitudine che accompagna lo zelo pastorale del Vescovo. L'argento, che fa da sfondo, è il colore simbolo della trasparenza, quindi della verità e della giustizia, doti che anche esse devono corredare quotidianamente il Ministero del Vescovo. Sulla testa dello scudo, infine, una stella a otto punte. È in azzurro, simbolo della incorruttibilità del cielo, delle idealità che salgono verso l'alto. L'ingresso di Monsignor Franco Agostinelli alla guida della Chiesa di Prato è in programma per domenica 25 novembre alle 15.30.